La vittoria del no nel referendum costituzionale schiacciante in Basilicata con quasi il 66% dei consensi, le reazioni dai due schieramenti. Buonasera, l'apertura del nostro telegiornale è dedicata ancora una volta al referendum costituzionale anche in Basilicata, vittoria del no con il 65,89% dei voti contro il 34,11% dei sì. I commenti degli esponenti dei due schieramenti nel servizio di Michele Giordano. Vediamo. La Basilicata ha vinto ancora, ha difeso il suo futuro, allontana le prepotenze di uno Stato centralista, la possibile occupazione del nostro territorio dalle compagnie petrolifere e, come dire, allontana anche questa ipotesi di smembramento, di scissione della nostra regione. Esulta in Basilicata il comitato per il no. Il commento è affidato a Piero Lacorazza, esponente PD che ha votato contro le indicazioni del premier Renzi. In Basilicata il referendum costituzionale ha fatto registrare il 65,89% di no contro il 34,11% di sì.